In fiamme la conceria Basmar, in via stazione a Trissino, i vigili del fuoco intervenuti da Arzegnano, Vicenza, Schio e i volontari di Tiene con sette automezzi antincendio, tra cui quattro autobotti, 22 operatori, sono stati impegnati dalle 9 fino alle 14 per spegnere le lingue di fuoco partite nel reparto miscelazione colori dell'azienda. Molta paura anche per l'enorme colonna di fumo visibile a distanza di chilometri. Due operai nelle fasi iniziali dell'incendio sono rimasti leggermente feriti e portati in ospedale per gli accertamenti sul posto personale dell'ARPAV e dello Spisal.